ciao di nuovo amici di youtube 11 maggio 2024 sono all'interno di questo bellissimo parco dei giardini estensi di varese guardate che meraviglia sono immerso in un paesaggio naturalistico favoloso guardate quanto verde che abbiamo qui all'interno ricordiamo che la città di varese è denominata appunto la città giardino in quanto è circondata da questo bellissimo verde qui all'interno abbiamo molti sentieri tutti sottolati pavimento sottolato vedete questo è uno dei tanti sentieri qui scendiamo verso il lago dei cigni e allargo vediamo anche un cigno che si sta riposando guardate questo laghetto che c'è qui davanti alla mia visione qui bisogna stare attenti dove mettere i piedi perché ci sono anche dei saltelli un po' pericolosi è un parco dove all'interno troviamo anche tante giostre per i bimbi vi faccio vedere guardate guarda Aldo se mi segui guarda che bella cascata che scende che scorre in questo lago dei cigni dal giardino estensi di varese saluti da questo youtube di Sandro grazie a tutti